buonasera benvenuti a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni quest'oggi parliamo di gosaldo con il sindaco stefano dal zanche buonasera buonasera grazie per l'invito eccomi questo insomma vi state un po riprendendo da diverse ondate di maltempo chiaramente il post vaia è sempre un po un'onda lunga e si sono creati in quel contesto di danni e di problemi che poi un po tutti i territori si sono portati dietro e gosaldo è stato uno dei comuni più colpiti dall'ondata di maltempo di dicembre sì questo è vero gosaldo presumo che sia o il primo il secondo comune della gordino più colpito noi abbiamo avuto diverse strade ostruite oltre il ponte di dire in dove è caduto il mezzo di vigili del fuoco noi abbiamo la strada di carriera dei turbai la veder selle per andare ai pattini e più il ponte dire in sei strade più le varie franee sul territorio è un bel un bel danno un grosso danno senza dubbio e poi a lungo avete dovuto rinunciare all'accesso verso sospirolo perché poi c'era stato quel problema sulla sp2 peraltro più difatti abbiamo avuto per diversi mesi in poche parole da dicembre fino ai primi di giugno la chiusura anche della s sp2 sulla valle del miss anche lì dovuto sempre alla calamità di dicembre è anche per quello una grossa problematica per l'accesso avendo tutte queste strade non percorribili in più questa che era uno sbocco per il bellunese e la zona di tisera è ben soggetta oltre anche noi del centro di gosaldo ma quando abbiamo problemi sulla sp3 che attualmente abbiamo dei vari lavori di sistemazione della strada dei lotti boschivi delle sistemazioni da ieri della chiusura per altri 15 giorni per delle buche ancora del divaio del 2018 la sp2 fondamentale ecco e appunto c'è poi tutto questo post vai abbiamo parlato della sp3 quella un'altra insomma arteria importante per voi perché le strade per arrivare a gosaldo non sono mille data la posizione del del paese attualmente posso dire che noi abbiamo due strade che portano a gosaldo da agordo una è la 347 che l'hanno proprio ultimata la settimana scorsa quella mi sembra che è in condizioni buone ecco ma attualmente come diceva lei e la sp3 dal tratto da gosaldo fino nel comune di rivamonte per come ripeto per lotto boschivi per cedimento della careggiata per di più località al chilometro 9 e 4 9 6 le corde molle che è il fronte peggiore dove c'è una franna che parte sotto l'abitato di di renon e prosegue corde molle località selle e giù verso la veder quello è un grosso intervento da fare e di fatti speriamo che a breve anche parlando con veneto strade si possa ultimare a questi piccoli interventi dell'area la sistemazione dell'arteria sp2 quello poi è il fronte che ha creato problemi insomma anche anche a re quello è il fronte proprio che ha creato spiegando dalla forestale che in poche parole tutti i vari torrenti valli che erano non erano puliti e hanno ci sono inglobati sul ponte di ring e lì è successo il danno più grosso tutto sommato bisogna dire che è andata bene perché abbiamo perso un mezzo dei vigili del fuoco ma abbiamo abbiamo salvato i ragazzi che erano sul mezzo e quella è la cosa fondamentale direi che è proprio la cosa più importante poi insomma queste sono le situazioni di emergenza poi c'è diciamo l'ordinaria amministrazione c'è anche una possibilità di progettare per il futuro uno strumento importantissimo sono i fondi di confine fondo comuni confinanti e anche lì avete dei progetti insomma che sono in piedi sì noi abbiamo dei progetti che sono in piedi dalla vecchia amministrazione e noi come nuova amministrazione abbiamo risistemato il fondo 2000 2020 era inglobato sulle ex scuole medie invece noi abbiamo deciso di intervenire sulle due coperture delle delle scuole elementari e le scuole medie in primis per il fondo 2020 invece il fondo 2018 e il fondo 2019 il fondo 2018 sarebbe completamento degli aredi di cavalera area camper a tisera e forcella franche in più c'erano il progetto delle lupe e dentro ai pattini dando verso il torrente bis noi abbiamo scorporato il discorso del fondo delle lupe perché ci rallentava gli altri interventi questo per il 2018 per il 2019 era il bar in piazza e la caserma dei vigili del fuoco noi abbiamo avuto un incontro con i ragazzi di vigili del fuoco volontari di gosaldo abbia ci siamo confrontati abbiamo deciso che attualmente la priorità principale essendo scoperti di un bar sarebbe mandare avanti il progetto del solo bar e in secondo momento abbiamo deciso che per il fondo di confine 2021 integriamo tutto il fondo per la caserma di vigili del fuoco e allora abbiamo deciso di revocare il discorso 2019 per la caserma e per il 2018 il discorso delle lupe la settimana scorsa ci è arrivato la comunicazione da trento che è stata accettata e adesso procediamo con per l'avanzamento del progetto ecco e poi c'è un'altra caserma di cui si è abbastanza parlato negli ultimi mesi che quella dei carabinieri la possibilità che venisse svuotata insomma era stata annunciata lì però mi pare di capire che la partita ancora aperta si al momento quello che so io si dicono che meno ne parlano più vantaggio ne abbiamo noi che la caserma rimanga sul territorio oltre noi aver fatto l'incontro con il prefetto e le varie e qui quel comandante dei carabinieri per chiarire com'era la situazione attualmente a noi ci danno delle buone garanzie che la caserma rimanga sul territorio come vogliamo noi come amministrazione ma anche tutti i cittadini perché è un servizio per il comune di cosaldo e per mantenere il comune vigile presente sul territorio bisogna mantenere i servizi perché cominciamo a togliere i servizi anche il comune ne perde di attualmente come come amministrazione e abbiamo già abbiamo siamo intervenuti sul sullo stabile della caserma abbiamo rifatto la copertura del della della caserma ultimata in questi giorni stiamo rifacendo il discorso dell'impianto elettrico sulla parte bassa della caserma dobbiamo risistemare le le paratie delle scale perché non sono a norma dobbiamo rialzarle di 10 centimetri e oltre le paratie del delle scale anche i davanzali delle delle finestre anche lì dobbiamo mettere una una griglia abbiamo deciso di alzare una griglia di 15 centimetri per mettere la norma sulla sicurezza ecco per mantenere i servizi o riportarne alcuni a volte bisogna gettare un po il cuore oltre l'ostacolo e a gosaldo questo è stato fatto perché il bar non c'era ma adesso è stato riaperto grazie insomma all'impegno della pro loco si è la pro loco visto gli anni passati aveva il periodo estivo ripristinato un bar sotto il tendone dove facevamo le sagre durante l'anno quest'anno ci hanno proposto di fare il bar nello stabile dove verrà creato il bar visto che c'era la possibilità era solo solo da abbattere e una un muro hanno unito due locali dove da una parte c'era magazzino e dall'altra parte c'era l'ufficio proprio della pro loco e così i ragazzi della pro loco hanno creato proprio questo punto di ritrovo che fanno bar ufficio e tutto lì e bisogna dare un applauso al presidente marcon fabrizio il vice donatello galatone e a tutta la squadra che ha partecipato per la realizzazione del bar ultimamente avete inaugurato anche questo sentiero dedicato ai seggiolai insomma per gosaldo si tratta di una professione insomma che ha che ha contribuito che ha contribuito molto hanno anche al sostentamento delle famiglie un'arte insomma che poi è stata anche portata in giro poi per altri territori e quindi c'è questo sentiero che è dedicato anche alla spiegazione per i più per i più piccoli ecco noi come amministrazione noi siamo subentrati ai primi di ottobre dal dal bim di belluno ci è arrivato un contributo per a livello culturale e per creare dei delle cose inerente a dei giovani un parco e a noi è subito venuto in mente di svilupparlo proprio un parco tematico sul discorso di sviluppo su una cosa nostra personale del territorio e è venuto in mente proprio il seggiolaio dopo ci siamo appoggiati a un punto informazioni di brescia dove hanno sviluppato proprio tutto questo parco tematico inerente alla storia del seggiolaio proprio passaggio per passaggio proprio dalla crisi del dopoguerra che hanno dovuto prendere i nostri nonni di prendersi su le cose e andare a lavorare in giro per l'italia oltre anche all'estero e proprio e abbiamo ripristinato proprio tutta la storia del seggiolaio abbiamo deciso di farlo questo percorso di circa 23 chilometri tre chilometri scarsi proprio a forcella urine proprio sul sul percorso delle ex piste da fondo noi l'idea era di farlo girare a tutto attorno al colle è che con i problemi degli schianti in cora di vaia il percorso non era ancora tutto sistemato lo abbiamo deviato vediamo al momento se abbiamo avuto dei giudizi positivi in questo in questo mese che è stato realizzato vediamo se mantenerlo lì o se ripristinarlo per tutto il colle del gardelon a forcella urine in quel caso si tratta quindi di di modificare si di modificare perché noi abbiamo voluto farlo un giro anello come prefissati invece di fare il giro anello noi abbiamo dovuto smizzarlo e in poche parole c'è un'andata e un ritorno quasi parallelo invece se tu fai l'anello riesce mettiamo anche vedere le vette verso il verso sud quelle del del piz è proprio se è un giro più a 360 gradi un panorama diverso ecco vediamo se c'è la possibilità o se lo manteniamo lì o se no c'è la possibilità di allungarlo di modificarlo e allora in quel momento facciamo le varie variazioni chiudiamo con un argomento che stiamo chiedendo un po a tutti i sindaci si avvicina la gestione unica provinciale dei rifiuti e i vari comuni hanno poi scelto quale sarà il loro modello di riferimento immagino che gosaldo rimanga con valpe sì noi attualmente rimaniamo con valpe perché abbiamo riscontrato che è un servizio che è subentrato da diversi anni e è un buon servizio abbiamo la raccolta porta a porta attualmente vediamo abbiamo avuto delle piccole inconvenienti causate dalla calamità di dicembre perché le strade non erano percorribili ma oltre a quello tutto sommato sento e non ho avuto delle lamentele da parte dei cittadini per il servizio di valpe che così i cittadini non si devono neanche abituare a qualcosa di nuovo perché rimane tutto tutto com'è con questo argomento abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione quindi ringraziamo il sindaco per essere stato con noi grazie a voi e alla prossima sperando di portare notizie migliori e per il discorso nostro del nostro comune lo speriamo tutti quindi grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti